Portalo via, signore Portalo via, portalo via, portalo via, signore Portalo via, fuori mercanti dalla Lazio! Questa gestione è da vent'anni che ha allontanato i laziali da questa squadra. Questa gestione che io chiamo la gestione del Rissole, e tutti sappiamo che fine ha fatto poi il Rissole, comunque questa è una parentesi, è una gestione che ha distrutto i valori della lazialità, li ha proprio assorbiti come faceva Dracula con le sue vittime, con il sangue, è uguale. Io da 19 anni che diserto lo stadio, perché non intendo foraggiare questa gestione che per me non ha niente di laziale, ma oggi sono qui proprio per una testimonianza e per cercare di dare il via a un qualcosa che tutti noi speriamo. È un club che sta nella disorganizzazione più totale e non merita questo. È una gestione indegna di una città come Roma, dovrebbe proprio essere gestita in maniera molto più organizzata, una struttura molto più complessa. Questo è un uomo solo al comando che fa tutto lui e fa anche male perché c'è altre cose a cui pensare. È peggiorata un po' la situazione da quando è stato in Parlamento, lo dico. Secondo me sì, perché se ne occupa ancora di meno, ha ancora meno voglia di rarsi da parte. Il popolo tiene sulle teste, guarda in alto l'ambientà che vana la mia storia, la storia di Roma. E qui che è stato a loro, un secolo mi sapevile. Fuori mercanti dalla Lazio, fuori mercanti dalla Lazio. Fuori mercanti dalla Lazio, fuori mercanti dalla Lazio.